L'arrivo e la partenza in elicottero, quello di un amico, ha precisato Luca Cordero di Montezemolo, che nelle scorse ore è atterrato a sorpresa a Rosora, in provincia di Ancona, per visitare lo stabilimento della Loccioni. Accompagnato da Enrico Loccioni e dai figli, ha visitato i laboratori dove si sviluppano sistemi di alta tecnologia made in Italy, richiesti in tutto il mondo. Quindi ha incontrato la comunità locale, i dipendenti e i collaboratori dell'azienda marchigiana, nell'ambito del Marso Loccioni, un mese di formazione dedicato alla divulgazione della cultura d'impresa e imprenditorialità, che da sette anni si tiene nello stabilimento. Nella mia vita ho fatto tanti mestieri diversi, ma tutti avevano tre fari di riferimento, più una cornice. Il primo faro è che il patrimonio più grande che un imprenditore possa avere sono le persone, il secondo è la qualità e l'eccellenza reale del prodotto, al di là della comunicazione e della pubblicità. Il terzo è un'attenzione maniacale al cliente. Così Cordero di Montezemolo ha iniziato la sua testimonianza davanti ad una sala marzo gremita.